L'attrice originaria di Sant'Agata dei Goti, Ienne, e cugina del più famigerato Leonardo, entra nel cast della serie tv americana, La Gioconda. Ruolo, quello dell'incredibile Marchesa di Mantua Isabella d'Este, splendida figura del rinascimento italiano. Lorenzo Raveggi, il regista fiorentino studioso, ricercatore e amante delle storie del medioevo e rinascimento spiega dai giornalisti, l'onore è quello di collaborare con colossi americani che distribuiranno in tutto il mondo questa gigantesca serie televisiva riguardante l'opera più discussa e allo stesso tempo più amata di tutti ai tempi, cioè La Gioconda del grande Leonardo da Vinci. Gli attori? Sto e stiamo lavorando con un forte team ad una selezione importantissima al riguardo al riguardo di grandissimi attori di Hollywood. I nomi dei papabili sono molti e dei più affascinanti. Le location. Le più belle ville e i più suggestivi castelli di Toscana, Umbria, Emilia, Lombardia, Campania e Puglia, oltre a paesaggi da fiaba. Per i costumi, Raveggi si avverrà della professionalità della Sartoria Larlecchino di Perugia che ha già collaborato e sta lavorando con lui per altri progetti.